C'è Piff! C'è Piff! Ecco altri due fan di Piff Appena visti, piacere Io sono Piff2 Siete rimasti Stavamo aspettando a 10 minuti Che finisca di parlare con questo Secondo... Secondo me sta facendo la puntata sulla moda Perché il tipo è vestito in una maniera Particolare Secondo me è vestito Ahah No, però dai Te la c'è fatto Non ti prego